Mi fa piacere essere qua oggi con voi perché celebrate il rito del matrimonio che è una cosa bellissima in un luogo eccezionale pieno di alberi, una natura incontaminata. Anche voi girate in questo scenario bellissimo, quindi la bellezza è essenzialmente la capacità di emozionarvi sempre e di emozionare. La bellezza è per l'infinito e per l'eternità e io vi auguro anche perché vi devo donare questo mio ultimo libro che è Pensare il futuro e tutto questo noi dobbiamo tutelarlo ma anche valorizzarlo e promuoverlo, non cristallizzarlo ma viverlo e viverlo con l'amore. L'amore è un sentimento molto profondo e il rispetto che noi dobbiamo avere nei confronti di tutto ciò che ci circonda che è ambitus, che è ambiente, ma ancor di più l'amore è qualcosa di profondo per l'eternità.